amici del portai del verde buongiorno ben ritrovati oggi per la playlist dedicata alle piante carnivore andremo a vedere il sistema di cattura degli insetti chiamato a colla e di più non riesco a dirvi perché non essendo un esperto sono venuto proprio qui da michele delle piante carnivore di michè a chiedere come funziona andiamo a vedere come funziona questo sistema eccoci qui michele allora cosa possiamo dire i nostri amici di questo sistema che è un altro sistema completamente diverso agli altri sistema ben architettato anch'esso per catturare gli insetti allora trappola a colla della drosera capensis in questo caso che questa pianta questa pianta meravigliosa che luccica allora inquadriamo vedete adesso l'abbiamo messa proprio in condizioni di poter brillare così al sole vedete che si vedono queste goccioline che che colla semplicemente colla infatti eccola qua guardate perfetto questa colla praticamente attira l'insetto appunto come come ben vediamo adesso con il sole sembrano tutte delle piccole goccioline di rugiada pertanto l'insetto arriva pensa di bere in realtà e quindi ci si fionda su una volta che arriva viene appunto incollato guardate adesso vi facciamo vedere ancora guardate come è filamentosa la colla vischiosa che mi ferma l'insetto sulla pianta fondamentalmente al di sotto di queste goccioline ci sono questi piccoli pelini che in realtà sono dei tentacoli quali quelli che qui vedi al di sotto della colla ci sono questi pelini quelli in realtà sono tutti piccoli tentacoli questi portano l'insetto fino alla foglia dopodiché la foglia pian pianino fa un leggero movimento a differenza della delazioniamo scipola qua ci impiega anche delle ore ma ci si arrotola proprio sopra ecco una volta fatto questo allora lì emette i famosi enzimi e quindi il discorso è sempre lo stesso quindi enzimi disgregano la carne e la rendono disponibile alla pianta una volta che ha digerito l'insettino digerito assimilato forse la parola migliore una volta assimilato la foglia si riapre nuovamente il vento e la pioggia mi vanno poi a togliere quello che è lo scheletro che rimane comunque lì sulla pianta e questo processo totale quanto di quanti stiamo parlando? dipende un attimino dalla tipologia di insetto consideriamo il moscerino della frutta viene digerito in 3-4 giorni una mosca 8-10 giorni e dopodiché viene si riapre la foglia? dopodiché la foglia pian pianino si riapre esattamente come ha fatto quindi fa il processo inverso quindi se prima si è chiusa adesso si riaprirà lì rimane questo scheletro che appunto acqua e pioggia tendono a mandarlo poi via queste sono piante da esterno si possono ottenere anche all'interno? queste sono piante da esterno oddio lei arriva dal Sudafrica pertanto qui da noi durante l'inverno al di sotto del più 5 sarebbe bene ripararla viceversa è una pianta sufficientemente robusta quindi anche da noi l'inverno lo svanga abbastanza bene solo che sparisce totalmente e poi nella tarda primavera ricaccia dalla radice ho capito bene allora abbiamo visto questo sistema che si chiama proprio accolla accolla perfetto quindi per gli amanti delle piante carnivore chi come sottoscritto vuole avvicinarsi a questo fantastico mondo abbiamo visto anche quest'ulteriore sistema vi rimandiamo al prossimo video state con noi e se vi è piaciuto questo video come sempre mettete un bel pollice all'insù e condividete nei social ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti